Oggi parliamo dei relativi che e cui e di chi, perché spesso si confondono per il fatto che in molte lingue si differenzia tra persone e cose, mentre in italiano che e cui possono essere usati indifferentemente per persone e per cose, e chi invece ovviamente solo per persone. Chi può essere dimostrativo e indefinito interrogativo, ma non staremo tanto a disquisire sulla grammatica perché c'è un modo più semplice per capire quando usare che, quando usare cui e quando usare chi. Il messaggio vostro che ha ispirato questo video è questo qui. Ho già parlato con un amico, con chi non avevo parlato da molto tempo e l'ho scelto perché è un errore molto frequente nel livello B1, ma non solo perché è un errore che si può fare anche a livelli più avanzati per distrazione in generale. Allora, vediamo qualche frase con chi, cui e che. Non so chi ci sarà al corso di italiano. Mario, con cui studio italiano sa anche il francese, cui si usa sempre con preposizione. E Mario, che è italiano, parla anche il francese, che in questo caso è soggetto, ma che può essere soggetto o complemento diretto. Quando io dico Mario, con cui studio italiano sa anche il francese, questo con cui riprende una parola, in questo caso una persona, che io ho introdotto in precedenza, cioè si riferisce a una persona concreta. E così anche che Mario, che è italiano, parla anche il francese. Anche in questo caso questo che sostituisce Mario. Queste due frasi io le potrei dividere in due frasi. Mario sa anche il francese, io studio italiano con Mario. Mario parla anche il francese, Mario è italiano. E uso il relativo per unire queste due frasi e rendere il discorso meno ridondante. Chi invece non si riferisce mai a nessuna persona che ho introdotto in precedenza. Cioè se io dovessi rappresentare graficamente chi, non posso mettere la foto o l'immagine di una persona concreta. Non so chi ci sarà al corso di italiano, vedete che questo chi non è introdotto da niente. Con chi sei andato alla festa, anche qui chi non è introdotto da nulla. Non si riferisce a nessuna persona di cui ho parlato prima. Chi vuole può vedere il video, la stessa cosa. Chi, qui non fa riferimento a nessuna persona di cui ho parlato in precedenza. Vediamo adesso queste frasi con chi, come potrei esprimerle con i relativi che e cui e che cosa devo fare per trasformarle. Non so chi ci sarà al corso di italiano, non conosco le persone che saranno al corso di italiano. Vedete che nella seconda frase, le persone, viene ripreso da questo che. Con chi sei andato alla festa, qual è la persona con cui sei andato alla festa. Anche qui, con cui riprende la persona. Chi vuole può vedere il video, le persone che vogliono possono vedere il video. E che è introdotto da le persone. Torniamo quindi al problema che abbiamo esaminato all'inizio. Ho già parlato con un amico con chi non avevo parlato da molto tempo. Metti in pausa il video e pensa come puoi correggere questo con chi. Ho già parlato con un amico con cui non avevo parlato da molto tempo. Perché abbiamo la parola amico e quindi qui ci riferiamo a una persona concreta. Con cui non avevo parlato da molto tempo.